Alessandro Lanna guidava l'auto che ha causato l'incidente a Vogogna, si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Vertenza Blue Service, Bialetti diserta l'incontro in prefettura per i lavoratori 39, si apre ora la cassa integrazione. Esce dal carcere Massiubriaca da inescandescenza e viene arrestato di nuovo nel pomeriggio, successo a Domodossola. Diverse celebrazioni organizzate nel VCO per ricordare il 4 novembre, le nostre telecamere a Verbagna e Domodossola. Il maggiore ospita la prima nazionale del film Il Bioninista, il lungometraggio girato interamente nel VCO. Sabato al Palabattisti, Fulgor Pavia con le celebrazioni per il secondo anno della scomparsa del patron Ugo Paffoni. Buona serata e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale in apertura alla cronaca. Torniamo sull'incidente stradale successo l'altro giorno a Vogogna che ha causato lievi lesioni per una 17enne del posto. Alla guida dell'auto c'era il presidente della provincia del VCO. L'Ana si è presentato spontaneamente ai carabinieri, non si era accorto di aver investito la ragazza. È Alessandro L'Ana, il presidente della provincia del VCO, l'automobilista che il 31 ottobre scorso, intorno alle 14.30, ha ortato una 17enne a Vogogna. Lesioni lievi, 15 giorni di prognosi per la ragazza. Lui stesso si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Premosello Chiovenda con il suo avvocato di fiducia Cristian Ferretti e tramite il suo legale L'Ana dichiara «Durante la guida mi sono distratto e non ho avuto la minima percezione di aver urtato una persona, ma soltanto di aver colpito lo specchietto contro il muretto o la ringhiera del ponte, altrimenti mi sarei subito fermato. Dopo aver appreso dell'articolo apparso sul giornale successivamente ai fatti che l'investimento della ragazza avrebbe potuto essere causato dal mio comportamento, mi sono immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, presentandomi spontaneamente dai carabinieri di Premosello Chiovenda, accompagnato dal mio difensore per il compimento di tutti i dovuti accertamenti, mettendomi anche a disposizione della famiglia per incontrarli. Era stata la mamma della giovane a lanciare un appello affinché chi aveva investito la ragazza si facesse avanti». Ora invece l'occupazione. Ieri tornato a riunirsi a Villa Taranto il tavolo, convocato dal prefetto per discutere dell'avvertenza Blue Service. L'incontro purtroppo non ha portato le novità sperate. Bialetti, che inizialmente sembrava intenzionata a prorogare la commessa all'azienda ossolana, non si è presentata all'appuntamento, un segnale giudicato negativamente dai rappresentanti sindacali. Si complica il futuro occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Blue Service di Ornavasso dopo che Bialetti ha scelto di non presenziare giovedì all'incontro convocato nel pomeriggio a Villa Taranto dal prefetto del Verbano Cusiossola. Temiamo la mancata partecipazione di Bialetti sia sinonimo di un suo disimpegno rispetto alla paventata possibilità di proseguire con l'affidamento della commessa per l'assemblamento della caffettiera Mocca. L'ultima riunione conferma i nostri timori. Dopo il vertice dei giorni scorsi, la nostra cautela era d'obbligo. Unico dato positivo al momento resta il ritiro della procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori. Il primo commento rilasciato dalle organizzazioni sindacali di categoria. Massimo Guaschino, di Fiso Scattacis, la Piemonte Orientale, Michele Pifero, della Filcams, CGL Novara VCO incontreranno la prossima settimana i vertici aziendali di Blue Service. Intanto l'azienda Ossolana ha aperto la procedura di cassa integrazione per i 39 lavoratori del prezzo industriale di Ornavasso. La prossima settimana ci incontreremo con l'azienda per fare il punto della situazione ma chiariamo sindora che metteremo in campo ogni azione possibile per salvaguardare i posti di lavoro, sottolineano ancora Guaschino e Pifero. La Blue Service è un'azienda che occupa per lo più donne. La notizia del disimpegno di Bialetti ha riportato incertezza fra questi lavoratori. Intanto in attesa di nuovi sviluppi c'è chi sottolinea come il comportamento di Bialetti sia da considerarsi grave. Siamo in presenza di una società storica, dicono, un'azienda nata sul territorio che ora dimentica le sue radici. Bialetti deve il suo sviluppo al BCO. Il Cusio soprattutto con la decisione di non rinnovare la commessa Blue Service di fatto impoverisce un territorio già provato dalla crisi del comparto metalmeccanico. Ora capisco che sto lottando per l'umanità. Da Peppino Impastato ai difensori della terra in America Latina. Incontro con Salvatore Inguì e Angelo Sicilia. L'iniziativa è del Centro di Documentazione contro le mafie e per la legalità. Intitolato a Giancarlo Siani è situito alla biblioteca del Liceo Cavalieri di Verbagna e del Presidio Docenti di Libera VCO intitolato a Luca Cottarelli. Giovedì sera a Pallanza incontro con la cittadinanza. Venerdì mattina con gli studenti. Oggi siamo qui per la prima iniziativa del Centro di Documentazione per la legalità e contro le mafie del Liceo Cavalieri intitolato a Giancarlo Siani. Questo Centro di Documentazione è nato a marzo di quest'anno ma quella di oggi è la prima iniziativa pubblica. Ieri sera c'è stato un evento alla presenza della cittadinanza e di tutti gli attori che hanno contribuito a realizzare l'iniziativa e cioè il Comune di Verbagna che ha dato il patrocinio ma anche il Presidio degli insegnanti di Libera VCO 21 marzo, avviso pubblico e anche il nostro comitato dei genitori del Liceo Cavalieri. Oggi replichiamo con un incontro invece per i nostri studenti alla presenza di due illustri ospiti che erano presenti anche ieri sera che sono Salvatore Ingui e Angelo Sicilia entrambi molto impegnati nei temi della legalità e di contrasto alle mafie sia in Sicilia ma anche all'interno di progetti internazionali insieme per esempio a Libera International. E' proprio per questo che i contenuti dell'incontro spaziano dal racconto e dalla memoria di quella che è stata la storia di Peppino Impastato fino ai martiri della terra dell'America Latina. Questa prima iniziativa per noi è molto importante perché è il momento di presentazione del centro ufficialmente sia alla scuola che alla città ma la intendiamo come una prima di una lunga serie di iniziative sulle quali il centro si impegnerà sia per le scuole innanzitutto la nostra ma anche le scuole del territorio e anche per altri eventi cittadini. Naturalmente il fine del centro di documentazione è quello di raccogliere e diffondere materiale che è più svariato dai libri, articoli, documenti, film che possano essere uno stimolo alla ricerca dei contenuti forti e della memoria ma anche di contrasto appunto ai fenomeni, ai comportamenti mafiosi. I vigili del fuoco del comando provinciale poco dopo mezzogiorno sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto un'auto che in Viale San Giuseppe a Intra è uscita di strada ortando il muro perimetrale di recinzione di una villetta causando danni strutturali all'ingresso pedonale. Nell'urto l'auto ha inoltre causato la rottura di un tubo del gas. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il muro parzialmente crollato e intercettato la perdita del gas in attesa del personale tecnico. Sul posto era presente personale sanitario che ha prestato le prime cure al conducente ferito unica persona coinvolta nel sinistro presente anche la polizia municipale di Verbagna per i rilievi. E ora vi raccontiamo la storia di un vigezzino uscito dal carcere la mattina e rientrato poi nel pomeriggio. La mattina esce dal carcere la sera viene arrestato di nuovo. È successo ieri un uomo cittì le sue iniziali già noto alle forze dell'ordine. La mattina è stato rimesso in libertà per l'attenuazione della misura cautelare che gli era stata concessa con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Nel pomeriggio si sarebbe dovuto recare dai carabinieri di Santa Maria Maggiore per concordare i tre giorni della firma ma è rimasto a Domodossola a bere nei locali cittadini. Ovriaco ha iniziato a dare in escandescenza. Sul posto è intervenuta la polizia. L'uomo ha iniziato a scagliarsi contro l'assistente della pattuglia con ingiurie e minacce. Con difficoltà i poliziotti sono riusciti a identificarlo. Una volta nell'auto di servizio ha continuato a minacciare le forze dell'ordine fino a questa mattina durante la notte trascorsa in camera di sicurezza. È stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Questa mattina è comparso in tribunale per la convalida dell'arresto. La PM Anna Maria Rossi ha chiesto nei suoi confronti sia la convalida che l'applicazione della misura cautelare di custodia in carcere. Anche in aula l'uomo ha avuto un atteggiamento non rispettoso delle regole e per la recidiva il comportamento aggressivo dimostrato il giudice ha accolto le richieste e disposto nuovamente la custodia cautelare e così è tornato in cella. Il comandante della stazione carabinieri di Santa Maria Maggiore interverrà sabato 5 novembre nella chiesa parrocchiale dopo la messa delle 18 per sensibilizzare e informare gli anziani sul tema delle truffe. E sempre sabato 5 novembre il comandante della stazione di Domodossola interverrà nei circoli Arci di Domodossola e Beura Cardezza. Va avanti quindi l'impegno dell'arma nel VCO per contrastare questo fenomeno. Diverse le celebrazioni promosse nel verbano Cusio-Ossola ricordo del 4 novembre festa delle forze armate a Intra si è svolta la celebrazione provinciale alla presenza delle massime autorità civili e militari l'appuntamento per tutti prima nella Basilica di San Vittore poi sul Lungolago. La manifestazione del 4 novembre è tornata al programma pre-Covid a Verbagna dopo la messa in suffragio dei caduti nella Basilica di San Vittore alla presenza delle autorità civili e militari del territorio è partito il corteo che ha attraversato le strade di Intra fino al monumento sul Lungolago. Qui si sono tenuti discorsi delle autorità da parte del sindaco Silvia Marchionini del vice presidente della provincia Rino Porini e del prefetto Michele Formiglio. L'orazione ufficiale è stata affidata alla dirigente scolastica dell'Istituto Ferrini Franzosini Nadia Tantardini. La preside ha ricordato i più giovani la fine della Grande Guerra risale a 104 anni fa l'Italia era profondamente diversa da persona che per missione professionale pensa all'educazione dei giovani alla scuola constato che la distanza storica ed emotiva da quell'evento è enorme e un adolescente di oggi non può nemmeno concepire la vita di un coetaneo dell'epoca armato in trincea cose del secolo scorso così lontane da sembrare virtuali ma ciò che è accaduto è tutt'altro che virtuale e noi dobbiamo fare in modo che quella storia con i suoi altissimi valori e con i suoi immensi interrogativi parli ancora ai nostri ragazzi sia materiale vivo di riflessione gli aiuti a capire il presente per non ripetere gli errori fatti è la scuola che ha la responsabilità di formare le coscienze dei giovani educando all'amore per la verità con l'impegno di promuovere il pensiero critico e di analizzare la storia con lucidità e voglio anche aggiungere ha detto la preside che nella placida quotidianità del nostro tempo mentre nelle classi si studia si dialoga ci si confronta su un'infinità di argomenti la fraternità non è un'idea stratta in questa placida quotidianità appunto da qualche mese nelle nostre scuole si ospitano ragazzi provenienti dall'Ucraina da luoghi di guerra ancora guerra nel mezzo dell'Europa tutti pensavamo che dalle ceneri delle guerre mondiali fossero nate delle democrazie capaci di dialogo un'Europa di popoli fratelli e che la lezione della storia ci avrebbe messi a riparo per sempre dai conflitti fratricidi invece gli occhi dei bambini e dei ragazzi ucraini seduti nei banchi accanto agli alunni italiani ci dicono che le conquiste democratiche sono beni molto fragili e la storia si ripete in tutta la sua tragicità dunque oggi nel festeggiare la giornata dell'unità nazionale voglio dire ai nostri giovani di non dare per scontato il prezioso dono di pace scaturito dal sacrificio dei nostri soldati di saper vivere sentendosi parte di un popolo forte e accogliente ma soprattutto di non ridurre mai il sentimento di unità nazionale alla mera difesa di un confine con grande riconoscenza alle forze armate al termine della cerimonia la consegna della benemerenza del cavalierato al luogotenente dei carabinieri Giuseppe Rossini il presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri lo ha infatti insegnito della distinzione onorifica di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana le nostre telecamere hanno seguito anche le celebrazioni del 4 novembre a Domodossola a cornice dell'appuntamento la nuova piazza Madonna della Neve un pubblico numeroso composto per lo più da studenti delle scuole dell'obbligo primarie e medie inferiori ha assistito alla celebrazione con il sindaco Lucio Pizzi presenti le massime autorità militari della città di Domodossola per la guardia d'onore alla cerimonia sono arrivati i militari del reggimento Nizza Cavalleria di Bellinzago Novarese diversi vestilli delle associazioni combattentistiche presenti all'evento la deposizione della corona di alloro al monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre ha aperto le celebrazioni dopo il saluto del sindaco che ha ricordato l'importanza del momento è toccato allo storico locale Raffaele Fattalini l'orazione ufficiale nel suo intervento diverse citazioni di intellettuali locali come Clemente Rebora Don Remigio Biancossi il richiamo è stato al momento storico in corso quindi alla pandemia e alla guerra in Ucraina oggi si celebra la festa delle forze armate è la prima volta dopo tanti anni che celebriamo questa festa in tempo di guerra sì è una cosa inaspettata dopo due anni di epidemia con la guerra alle porte incredibile dopo un secolo l'Italia quasi un secolo di pace che nella storia di Italia non si era mai verificato siamo di nuovo qui a temere che succeda quel che tutti auspichiamo che non succeda il senso di questo festeggiamento il senso è l'unità nazionale e la festa delle forze armate che hanno difeso e difendono e difenderanno i confini della patria contro l'invasore e oggi la parola invasore ha ripreso un suo triste valore evidenza e poi oggi in missione di pace come vuole la nostra costituzione che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle coltese internazionali ma dice anche che la difesa dei confini della patria è un sacro dovere dei cittadini tra i cittadini che oggi assistono a questa celebrazione e tanti giovani tanti studenti delle scuole primarie di Domodossola un messaggio importante per questi bambini è per loro che noi siamo qui a rendere omaggio a questo monumento che è un monumento è un ricordo perché si tramanda di generazione in generazione insieme con i valori che hanno portato questi giovani del 15 18 del 40 45 a sacrificare la loro vita per difendere la patria e la pace e ora la politica verbanese continua il botta e risposta tra il capogruppo di Verbagna futura Gian Domenico Albertella e il sindaco Silvia Marchionini sulla questione del nuovo piano regolatore come al solito Marchionini interpreta a suo uso e consumo il contenuto del nostro comunicato senza cogliere fingendo di non capire il suo vero significato e il nostro ennesimo invito al confronto al dialogo e alla condivisione perché buttare la palla in tribuna le consente poi di fare ciò che per lei è ormai abituale cioè arrivare in consiglio comunale anche su un tema importante come le stesse ammette come la variante strutturale del piano regolatore con la proposta tecnica di progetto preliminare preconfezionata così Gian Domenico Albertella appunto replica a Marchionini siamo abituati aggiunge a ragionare e confrontarci con pragmatismo e concretezza su dati analisi intendimenti e indirizzi ma non su nulla aspettiamo tutto questo in commissione e sia serena che se ci sarà consentito noi ci saremo con le nostre idee le nostre proposte i nostri contributi per la città replica il sindaco sono state fatte quattro assemblee fra cui almeno due commissioni oggi nessuna proposta tecnica è giunta fa piacere che Albertella condivida il fatto che il PRG della città pertanto attendiamo di conoscere le proposte troppo facile davanti agli elaborati dire che sono già confezionati e aggiunge anche gli istituti superiori sono un bene della città peccato che in tre anni abbia fatto una riunione e rifiutato ogni forma di collaborazione del comune con l'ardire che fa tutto la provincia cambiamo argomento ora andiamo al teatro maggiore di Verbagna dove c'è Mirko Zull il regista del film Il violinista lo sapete il lungometraggio sarà presentato in prima nazionale a Verbagna ciao Mirko ciao Maria Lisa buonasera a tutti sì siamo siamo pronti dopo come dicevi tu dopo un anno di lavoro tutto pronto per la proiezione di questa sera sto fuori dalla sala perché stanno facendo le ultime prove tecniche di proiezione e l'appuntamento è qui insomma alle 21 questa sera noi siamo tutti qua e vi aspettiamo per questa anteprima nazionale beh allora guardiamo ora insieme il trailer è il primo venerdì del mese e quindi lo vedrà lo vedrà con i suoi occhi è il maestro ci delizia con la sua arte ogni primo venerdì del mese alle ore 10 e un quarto precise precise violinista dico quando ha suonato sembravate assenti sospesi come in un libro una roba mai vista voglio sapere che effetto ti fa Ottavio Malatesta un nome che faceva tremare i polsi è qui per gratificarmi o mi devo preoccupare cos'è che non va al di là della caviglia Ottavio Ottavio io voglio sapere qual è il segreto della tua musica perché ha un effetto così forte così ipnotico sulle persone qui la porta è sempre aperta la luce è sempre accesa aggiungi un posto a tavola la ragazza suonavo per sconfiggere la noia poi per lenire il dolore non cercarmi più tutti mi chiedono perché la mia musica è così speciale perché quando suono sento che tutto non è successo in vano domani suonerai suonerò per lei come sempre non perdetevi dunque la visione ma Mirko cosa dovrà aspettarsi chi verrà al teatro il maggiore come sarà strutturata la serata ma allora semplicemente la serata sarà così strutturata all'inizio ci sarà ovviamente un saluto delle varie istituzioni comune di Verbagna in primis che è una delle realtà che ha creduto e sostenuto anche economicamente a questo progetto dopodiché una brevissima introduzione del film e poi spazio alla proiezione alla fine della proiezione invece spazio al cast tutta la prima linea di attori che racconteranno come è stata questa esperienza quindi come dicevo noi siamo qua e vi aspettiamo questa sera alle nove grazie allora Mirko Zullo in bocca al lupo a tutto lo staff e il cast che ha partecipato a questo film e ora uno sguardo alla programmazione di Vicio Azzurra TV come ogni venerdì alle 21 l'appuntamento è con il sasso nello stagno il settimanale di approfondimento di Vicio Azzurra TV questa settimana punta i suoi riflettori sull'automobile club del verbano Cusio Ossola l'ospite di Maurizio De Paoli è Beppe Zagami le anticipazioni questa settimana al sasso nello stagno parleremo di automobilisti dei loro problemi dei loro diretti e anche dei loro difetti che qualche volta purtroppo mettono a repentaglio la loro vita anche quella degli altri e parleremo di tante iniziative lo faremo con il presidente dell'automobile club del VCO il professor Giuseppe Zagami che sarà appunto nostro ospite con lui parleremo ripeto parleremo di educazione stradale parleremo dei diritti degli automobilisti che hanno diritto ad esempio a circolare su strade che abbiano una manutenzione efficiente parleremo di quelli che sono i servizi che l'automobile club fornisce ai soci ma anche ai cittadini e poi parleremo naturalmente anche della parte sportiva voi sapete per noi in particolare si parla dei rally rally di Due Laghi e rally delle Valle Ossolani quindi sarà una puntata credo ricca interessante ricca di spunti appuntamento a fra poco qui al Sasso nello Stagno con il presidente dell'automobile club del Verbano Cusi Ossola lo sport in primo piano in questa edizione il basket domani sarà Paffoni Day al Palabattisti la Paffoni affronta il Pavia sarà anche l'occasione per ricordare una figura storica per la vita della squadra Cusiana il patron Paffoni coach alla vigilia di una partita particolare una partita dal grande significato sul campo la Paffoni va alla ricerca della terza vittoria consecutiva nella seconda edizione del Paffoni Day sicuramente è una giornata emozionante per i nostri colori la speranza di offrire una prestazione in campo che sia in linea con le aspettative del pubblico e che onori la memoria del nostro presidente Paffoni sul campo troveremo una squadra ambiziosa che ha risalito piano piano la classifica che sta trovando una propria dimensione dopo un'estate un po' complicata ma con Legnano con Vigevano ha trovato una quadratura migliore e sicuramente si presenterà al Palabattisti a Guierdita con voglia di farci vedere i propri miglioramenti i propri progrezzi come sta la tua Paffoni ma non stiamo benissimo però sono le cose di tutta la stagione cioè gli infortuni gli acciacchi i giocatori che si fermano è normale credo che saremo al completo nonostante una settimana non facilissima però i ragazzi come sempre da questo periodo si stanno allenando molto bene con grande atteggiamento con grande voglia di collaborare e sicuramente con la voglia di confermare le prestazioni i miglioramenti visti nelle ultime due settimane cosa cambierebbe per il morale per la classifica l'eventuale terza vittoria consecutiva? Innanzitutto ci darebbe un po' di continuità e darebbe fiducia confermerebbe il buon lavoro che stiamo facendo in questo periodo e poi apre questa è la prima partita che apre un ciclo di tre incontri dove affrontiamo squadre che sono dichiaratamente di livello medio-alto perché abbiamo Pavia poi abbiamo Montecatini poi abbiamo Livorno abbiamo la fortuna di essere alla seconda partita in casa e questo ci dà un po' di margine per poter cavalcare l'entusiasmo che è avvenuto fuori dalle due vittorie consecutive e questa era l'ultima notizia il nostro telegiornale termina qui grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata con le nostre trasmissioni